Dunque Carlo, partiamo da un dato statistico, ore 11.30 di domenica, il campionato nazionale protagonista si è già concluso, tre prove con il Peler, siete arrivati terzi, un bilancio su questa manifestazione? Alla fine direi che è stato un bel campionato, anche perché all'inizio le condizioni, le previsioni meteo non lo davano così bello, avevano messo pioggia due giorni, oggi sole, che alla fine poi c'è stato. Siamo stati fortunati il primo giorno a fare tre prove con dell'ora, non la solita ora, però comunque delle belle regate, purtroppo ieri il comitato ci ha messo a disposizione a luna, quando al mattino ha fatto un bellissimo Peler e purtroppo non si è riusciti a fare le regate. Oggi invece il Peler è arrivato, tre prove, 18-29, bellissimo, e direi che questo qua è un po' la bellezza del lago. Tra l'altro, leggendo la classifica, ne parlavamo prima di iniziare l'intervista, i primi tre vi siete dati delle, tra virgolette, legnate in acqua oggi, avete risposto colpo su colpo alle performance degli avversari e la classifica è stata comunque molto corta. Sì, c'erano secondo me cinque barche che potevano puntare tutte al podio, per cui è stata una bella battaglia, eravamo sempre noi cinque più o meno nelle prime posizioni, devo dire che chi ha vinto era forse più veloce di tutti gli altri, quindi per lui è stato anche leggermente più semplice, merito comunque a loro che hanno fatto un bellissimo campionato, non hanno sbagliato, a differenza di noi che la prima prova abbiamo fatto un OCS dopo averla vinta, per cui devo dire che è stato bello, essere sempre lì, primi tre, sempre a giocarci su ogni virata, sulla partenza, sugli sbagli, è sempre un bel regatare. L'anno scorso di secondo, quest'anno terzo, però c'è un piccolo motivo di soddisfazione per te, perché la barca che ha vinto portava i tuoi vestiti, tra virgolette, era invelata da voi? Sì, quest'anno abbiamo iniziato a fare un lavoro di vele sul Protagonist, con la nostra velleria, e finalmente quest'anno siamo riusciti a vincere, visto che l'anno scorso la mia barca era l'unica, siamo arrivati secondi, quindi c'è un po' sfuggita di mano alla fine, quest'anno invece sono contento per quelli che hanno vinto, doppia soddisfazione, proprio perché avevano le nostre vere. Un'ultima domanda, non tutti conoscono i Protagonist, raccontaci qualcosa di questa barca. Sì, è una classe nata sul lago, anzi nata a Garniano da Galloni, e si è diffusa anno per anno, hanno lavorato bene, hanno una bella classe alle spalle, è nata come barca per armatori, quindi regattanti della domenica, dove comunque lo spirito era proprio quello di divertirsi, pur però avendo tra le mani una barca monotipo, dove tutti potessero avere la stessa possibilità di vittoria. Negli anni si è anche voluto il livello tecnico, fino ad arrivare a quest'anno, dove comunque in barca c'erano numerosi professionisti, velisti, seppur non professionisti molto bravi, quindi direi che è un po' adesso è diventata la classe di riferimento del lago di Garda. E quindi l'anno prossimo proverai a salire sul gardino più alto del podio? Spero di esserci e spero finalmente che l'anno prossimo sia l'anno giusto. Grazie mille. Grazie a voi.